Tappa Appeglio per il tour di Garanzia Giovani, il programma a sostegno dell'occupazione giovanile messo a punto da provincia di Pesaro e centri per l'impiego. Si chiama Garanzia Giovani ed è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. A Appeglio si spiega ai ragazzi come funziona. Un giovane tra i 15 e i 29 anni che non studia e non lavora si iscrive online o nel centro per l'impiego, dopodiché si cerca l'offerta migliore. La formazione, il tirocini o il servizio civile, un'esperienza all'estero o l'accompagnamento all'avvio di impresa. Il mercato in questo momento non è particolarmente ospitale nei confronti dei giovani. Al di là dei dati ufficiali noi sappiamo che i giovani fanno proprio fatica a rendersi visibili, non sanno spesso dove andare o come fare per muoversi. Previsti anche incentivi alle imprese che offrono lavoro ai ragazzi. Hanno speranza questi ragazzi? Per me sì. L'importante è la passione che uno mette nel lavoro. Cioè uno deve fare le cose più per la passione che per il misero stipendio che arriva a fine mese. Con questo progetto attivo fino alla fine del 2015 non si dà ai ragazzi la garanzia del lavoro ma li si sostiene nella ricerca per sconfiggere lo scoraggiamento e l'inattività.